Dimitrius Sunas Cosa hai pensato sul corpo di testa di Murano? Era molto contento come tutti, ci stiamo lavorando molto sulle palle native, oggi siamo riusciti a fare il gol, le palle native sono fondamentali, quindi sono molto contento per lui. Quarta vittoria consecutiva, dove può arrivare questo Perugio? L'abbiamo detto anche l'altra volta, questa squadra è forte, bisogna dimostrarlo solo sul campo, non sulla parola, come l'abbiamo fatto in queste quattro ultime partite, l'unica cosa che posso dire è che per arrivare in alto bisogna lavorare, come abbiamo fatto fino adesso, ancora di più anzi, bisogna lavorare e far bene.